Signori buongiorno, stamattina si comincia con il roast beef, per il weekend perfetto. Dopo i cotti passiamo alle nostre insalate di pollo, eccola qua in preparazione. Oltre al roast beef abbiamo fatto un bel corno di vitello farcito con procetto cotto e provola, saporitissimo. Ed ecco i nostri fantastici polpettoni, questo è con radicchio scottato alla brace e provola. Ed ecco il polpettone con le melanzane. Adesso passiamo alla costoletta di Miami. Eccola qua. Ed ecco le nostre avette marinate. Sembra di stare al Super Bowl con queste alette.